I gnoti si sono introdotti all'interno dell'ufficio tributi del comune di Capaccio Pestum. Sulla vicenda interviene il sindaco Francesco Palumbo. È stato un tentativo di furto a di poco anomalo, visto che stiamo mettendo mano alla parte più spinosa i tributi non pagati da grandi, medi e piccoli contribuenti. Se dovesse essere stato sottratto qualche documento sarà ristampato, perché ovviamente eseguiamo periodicamente il backup di tutti i dati. Ribadisco che coloro che non hanno pagato fino ad oggi i tributi li dovranno pagare, partendo proprio dai grandi.